E non vedevo l'ora di aprire queste uova, queste sono le uova di Barbie, c'è questa qui più piccolina che è di 220 grammi e c'è questa enorme da 320 grammi che ha doppia sorpresa, qui troviamo già la borsetta girabrilla di Barbie, apriamole. Ok, cominciamo con questa più piccola, troviamo due amiche Barbie, questo è cioccolato senza glutine, finissimo della Dolphin, la carta è bellissima, guardate ci sono tutte le Barbie, allora qui c'è lo scotch, oh mamma mia. Aiuto! Allora, ce l'ho fatta. Guardate che bella la carta, ma questa qua è meravigliosa, cioè potete ritagliare tutte le Barbie e attaccarvele da qualche parte. Ed ecco l'uovo, è già, era rotto, è già rotto, meglio così non mi sfascio le mani. Ma che meraviglia, dentro c'è una Barbie, ma ciao amica, togliamo la carta. Guardate che bella, è meravigliosa, è una mini Barbie, è proprio carina, guardate, è bionda, è una mini Barbie in carriera con i tacchi, no non ha i tacchi, con le ballerine, con gli occhiali. Allora, poi qui ci sono degli, allora qui c'è, vabbè, questo, collezione alle 6 mini Barbie Super Fashion, ah ok, sono le Barbie Super Fashion, noi abbiamo trovato la più carina, c'era anche molto bella la ballerina. E poi qui dentro ci sono, mi sembra, degli stickers, degli adesivi, perché c'è scritto attacca e stacca. Eh sì, che carini! No, questa sorpresa è bellissima, bimbe, se vi piacciono le Barbie, comprate assolutamente questo uovo, perché è meraviglioso, stickers e bambolina. Andiamo ad aprire quella grossa, apriamo adesso l'altro, qui come vi ho già detto ci sono due sorprese, una la trovate fuori ed è questa meravigliosa borsetta di Barbie. Guardate che carina, è una borsettina stupenda, c'è anche la cerniera, è molto molto bella, ha tracolla, con questo effetto gira brilla, gira brilla e cambia colore. Fucsia e argento, vabbè, vabbè, si vede. Apriamo, vabbè. Ok. Anche questa carta è bellissima, può, la potete usare per fare qualche regalo, questo enorme 320 grammi, con questo mi faccio male sicuro a romperlo. Ho paura. 3, 2, 1. No, veramente, bimbi, ma voi non vi fate male a romperle? Non ci riesco, è troppo... Ho sparso di nuovo cioccolato ovunque in camera mia, mi sono fatta malissimo e ho anche sporcato la maglia bianca. Allora, cerco di recuperare tutti i pezzi del cioccolato che ho sparso ovunque e... Uh, intanto ecco la sorpresa. Era più bella la sorpresa dell'altro, però in questa dovete considerare che già c'è la borsa come sorpresa. Qui abbiamo degli stencil e una matita. Non trovo le forri. Ecco qua, abbiamo... Ah, abbiamo anche dei foglietti con scritto Barbie e questo stencil e la matita per disegnare quello che c'è. Beh dai, carino, carino, ho anche sputato. Carino, però era più bella la Barbie che si trova nell'altro, ma in questa trovate la borsa. Quindi scegliete voi l'uovo che preferite di Barbie, sono tutti e due molto carini. Se potete prenderli tutti e due, prendeteli tutti e due, ma è troppo troppo cioccolato, non lo finirete mai. Al prossimo video!